buongiorno a tutti sono stella bozo di trading library e sono qui con wall charts perché questo sarà un webinar ne parlavamo prima interessante e anche divertente che cosa voglia dire divertente non lo so ancora ve lo vedrò con voi durante questo webinar quindi grazie per essere ancora con noi così numerosi in questa giornata calda con lo sciopero con tutto quello che ma voi siete qua con noi quindi grazie mille io c'è subito la parola a salvatore per cominciare questo webinar o a fabio non so chi dei due vorrà prendere in mano questo webinar per primo ma grazie davvero perché sono comunque curiosissima di vederlo questo webinar grazie a tutti e buon webinar buongiorno a tutti grazie stella soprattutto grazie a tutti voi che anche questa volta avete insomma partecipato a questa edizione oggi si ci divertiremo nel senso che faremo vedere quello che sappiamo fare cercheremo di darvi anche delle nozioni un po teoriche perché questo è un mercato dove come dice il mio ormai compagno di avventura se vogliamo che è ormai fabio michettoni fabio michettoni dice sempre vogliamo leggere la prima pagina l'ultima pagina del libro cioè noi siamo abituati a leggere l'ultima pagina del libro stella boso pubblica libri e lei ne scrive tantissimi prima dell'ultima pagina e quindi noi vogliamo portare diciamo il pubblico della trading library a conoscenza che per arrivare a una semplice analisi a un semplice trade piuttosto che a una semplice lettura di un mercato finanziario dietro c'è tutto un lavoro c'è tutto uno studio e c'è tutta una preparazione tecnica che credetemi dura anni voi avete la fortuna di avere in questo momento noi che abbiamo tantissime esperienze perché come abbiamo detto più volte fabio e degli anni 80 io sono dagli anni 90 quindi 99 figlio ovviamente di un mercato che in parte non esiste più e in parte invece mi ha dato tantissimo quello di fabio la prima parte è stata una bellissima esperienza tra l'altro invidiabile perché io l'ho dovuta studiare lui invece la propria vissuta anche come come broker come come partecipante attivo a funzioni che oggi veramente non esistono più e quindi un pozzo anche di conoscenza dal quale non mi nascondo non mi vergogno a dirlo attingo spesso anche quando devo portare avanti determinati studi quindi due persone che cercano di darvi avete la fortuna di da che vi possono dare ovviamente anche quella parte che ormai viene un po nascosta no dal questo diciamo da questo trading un po aggressivo da questo trading spiccio da questo trading da quattro soldi se vogliamo no parecchie persone noi riceviamo diverse mail di persone che utilizzano anche segnali a tre dollari cinque dollari piuttosto che formazioni gratuite ecco noi siamo se passiamo passate il termine insomma siamo di un'altra razza ecco di un'altra scuola e abbiamo intenzione insomma di di fare un lavoro un pochettino più carino e più completo soprattutto per portarvi poi a schiacciare come dico sempre quel tasto by sell stella bosso e tutto il suo staff che noi abbiamo conosciuto ci ha dato questa possibilità quindi io la ringrazio a nome di volcharts e adesso passeremo subito passo la parola a fabio michettoni in modo che introduce il tema di oggi e come avete visto gli altri webinar introduciamo dei temi li spieghiamo e poi passiamo alla parte trading dove sostanzialmente facciamo vedere quello che vediamo sui mercati e ovviamente in tempo reale a te fabio eccomi buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a stella e a tutti i partecipanti a questo nuovo webinar che come avrete avuto modo di vedere di apprezzare cerca di unire quello che è diciamo il linguaggio moderno che viaggia su strutture hardware e software sicuramente ben strutturate e molto veloci a informazioni di carattere storico perché per noi è essenziale conoscere da dove si viene per aver chiaro poi dove si vuole andare e quindi anche oggi cioè che proporremo forse più di altre volte andremo a dire a parlare a proporre a far vedere quella che nello specifico spiegare oltretutto quella che la gestualità no che viene fatta sui mercati finanziari per finalizzare l'operatività adesso è un cenno piccolo cenno storico no e diciamo che è molto forte il legame tra il gergo del trading di oggi e la storia della borsa è molto molto forte diciamo anche la stessa la stessa parola borsa uno pensa diciamo alla borsa che porta sul braccio alla ventiquattore no è il cognome di una famiglia veneta che nel quindicesimo secolo in belgio a bruges era conosciuta come vanderbors e gestiva uno dei primi mercati d'europa è curioso poi diciamo codificare il significato di denaro e lettera è molto importante all'epoca chi comprava le azioni chi comprava doveva presentarsi con il sacchetto pieno di denaro ecco il significato di denaro denaro compro mentre chi vendeva scriveva una lettera con la quale trasferiva il suo possesso di azioni ad altri ecco il significato di lettera denaro lettera proprio era la diciamo il comportamento del tempo per comprare e vendere uno comprava si presentava con il sacchetto pieno di fiorini di 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 marchi quel che era comunque moneta suonante chi vendeva azioni era obbligato a scrivere una lettera di trasferimento del possesso di azioni ad altri da qui diciamo il fatto che ancora oggi gli scambi di borsa non vengono definiti appunto con acquisti eccessioni ma si parla sempre di denaro e lettera e poi diciamo che l'anglofono ha preso il dominio no eh della situazione centrale quindi nei mercati finanziari è l'uso dei termini anglofoni e quindi si pensa short o long eh che si riferiscono appunto a quando eh si punta al rialzo o si punta al ribasso e anche qui è stata diciamo tessuta tutta una sequenza di gestualità che poi Salvatore ci farà ben vedere nello specifico andando a definirne il significato e si ha bisogno estremo bisogno eh di termini brevi che in abbinamento a gesti diciamo diano delle indicazioni immediate diano la percezione immediata di quel che si vuole fare cioè un'azione immediata per venire incontro alla controparte in un ambiente che se pensate bene io l'ho vissuta in piazza affari è spesso urlato e sovraffollato quindi c'è bisogno proprio di sintetizzare il gesto non sconfessando quella che è l'origine storica del gesto e nemmeno il suo significato di sicuro chi non conosce il gergo della bossa resta tagliato fuori quindi oggi noi ci troviamo ad usare delle strutture informatiche come abbiamo detto prima che viaggiano alla velocità della luce che trasferiscono le informazioni da un capo all'alto del mondo in un millisecondo senza sconfessare la loro radice storica perché è solo avendo presente la loro radice storica che si è in grado appunto di codificare il significato di tutto questo questo per esempio fabio possiamo sintetizzarlo così c'è una volta come abbiamo specificato più volte vendere si mostravano le mani perché questo per esempio sono questo è il signal end del che si veniva usato anche al cibot ma che viene usato che veniva usato in tutti i mercati ovviamente eh il sell erano dei palmi no ehm il buy era esattamente il contrario cioè a me a te ti do ti do una quantità ti do una quantità a un prezzo a un prezzo cioè quando ci sono questi gesti non vuol dire che questo signore che ha questa giacchetta che rappresenta ovviamente il broker a mal di testa no sono 50 sono 40 ecco anche le quantità venivano venivano espresse e quindi è un linguaggio è un linguaggio se vogliamo muto in più delle volte addirittura urlato ok però le funzioni erano queste quando si vendeva o quando si comprava grandi sites no grandi quantità e c'erano le avete visti che insomma questi trader che si sbracciavano no nelle fosse no nel pit come abbiamo spiegato più volte quindi c'erano ovviamente delle gestualità che introducevano tutto quello che era eh la diciamo la l'attività come per esempio i partecipanti no vi sembrerà strano ma per esempio eh broker eh broker non non venivano ovviamente cioè provate a immaginare di urlare un broker da una parte all'altra veniva era un pochettino difficile no? E quindi quando noi diciamo che il mercato è cambiato è cambiato in questo no? Cioè Credit Suisse Force Boston veniva fatto con questo gesto qui eh per esempio il broker EF Uton veniva fatto con questo gesto Swiss Bank no? La linea eh trasversale perché se voi vedete il marchio ha questa particolarità ma per esempio Deutsche Bank eh 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 Bersteers questo qua era per esempio l'orso no? Perché Bersteers ha come immagino l'orso eh Sharon Lehman perché prima era Sharon Lehman Mary Lynch è un po' come le nostre vecchie Toro nel mercato italiano eh Goldman Sachs no? Eh veniva fatto con il gesto delle quattro nelle quattro sorelle Deutsche Bank con il baffo no? E così via quindi tutte le funzioni ma anche se volevamo comprare per esempio eh delle opzioni no? Qui avevamo ehm le opzioni che le call veniva fatta con la C no? Eh nel senso bisognava eh comunicare eh comunicare eh comunicare tutta una serie di gesti eh le putte era l'ok no? Soprattutto al CME però poi anche di mercato in mercato cambiava perché al C-Bot le putte le putte erano con questo un po' il non era il Giulio Cesare della situazione ma era ehm fatto in questo lo straddle no? Cioè una putte e una call non in the money no? Veniva fatta sostanzialmente eh uno straddle e così a su altri mercati venivano sostanzialmente eh fatte queste 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 gestualità lo strangle ovviamente con la mano sulla gola e così via no? Ecco eh perché vi diciamo questo? Perché oggi invece tutto viene racchiuso in un concetto legato eh a un flusso a un flusso volumetrico quindi quello che diceva Fabio cioè proprio c'è stato quello dicevi tu Fabio c'è stata proprio una trasformazione negli anni che ha consentito sostanzialmente di portare insomma il trader tradizionale che è quello che abbiamo visto e che alcuna ancora adesso su alcuni mercati viene ancora effettuato questo tipo di di gestualità no? Qui eravamo sulle materie prime no? è stato uno dei primi mercati no? Quello di Chicago che veniva formato no? C-Bot no? Chicago Board of Trade cioè veniva fatto sostanzialmente veicolare tutto il trading delle materie prime dal Corn alla Sobian a tutti i prodotti ovviamente perché Chicago era una grande prateria. Ecco da lì siamo passati invece a un discorso molto più complesso molto più ragionato eh molto più dinamico da casa se vogliamo o sul desk di qualche istituzionale con il flusso ovviamente che arriva sul mercato già depurato di tutte queste informazioni però dietro il flusso ricordatevi sempre che c'era questo tipo di mercato che veniva generato cioè Fabio ovviamente vi ha introdotto in una situazione dove vi sta cercando di far capire che quel determinato eh mercato veniva poi no? Fabio veniva sostanzialmente se vogliamo manipolato se vogliamo eh organizzato architettato no? Certo eh io insomma per esperienza vissuta allora eh noi stiamo diciamo affondando il discorso non alla notte dei tempi comunque per avere un minimo di sequenza storica degli eventi che si sono susseguiti man mano da quando è stato istituito il Chicago Board eh per capire poi eh l'elemento essenziale di un discorso del genere è quello di far comprendere perché notiamo che spesso ci si perde un po' no? Nella diciamo nei meccanismi della tecnologia e delle informazioni che questi meccanismi tendono a far arrivare al retail cioè quando si parla di pressione no? Quella che noi usiamo eh un indicatore proprietario della nostra piattaforma per indicare per far vedere il dominio di una delle due side del mercato e vedere oltre che il dominio delle due parti di una delle due parti del mercato eh quando ci si arriva eh a livelli di eccesso beh la pressione non è nient'altro che osservare un pit un trading pit o quando c'era la borsa a Milano un recinto alle grida dove si contrappongono gli acquirenti e i venditori quindi con la stessa c'è stato anche scusa se ti interrompo un uno studio in tal senso eh lo studio eh del pit eh vertiva sul rumore eh attraverso delle onde sonore eh venne studiato sostanzialmente proprio il rumore della fossa no? Fossa perché era proprio una fossa era fatto con dei gradini in modo ottagonale come il marchio del cibotto no? Sostanzialmente questo rumore tanto più c'era rumore tanto più aumentava l'escursione dei prezzi e qui è stato fatto proprio un un studio che magari la prossima volta lo mostreremo eh di eh onde sonore cioè ci sono stati eh degli studi l'altra volta ho fatto ridere Stella Bosso perché c'erano dei trader che si mettevano i tacchi piuttosto che gli occhiali eh ma è tutto vero eh non dico bugie e vi dico ci sono stati fatti degli studi sulle onde sonore sugli sciami sonori eh ma se ci pensate è vero no? Tanto più si urla tanto più si urla da una parte e tanto più i prezzi andranno da quella parte oggi questo non è più fattibile perché come dicevo prima è tutto sintetizzato in un flusso in un flusso di dati no? Quindi Fabio quello che dicevi tu insomma eh no leggevo mentre tu stavi stavi parlando Salvatore eh leggevo qualche domanda che diciamo arrivava e ci sono persone che comunque chiedono approfondimenti cos'era il trading pit piuttosto che un altro che eh il Chicago Board of Trade dove sostanzialmente è stato fatto questo ehm viene definito pit in in nel gergo nel gergo quindi la nascita di questa borsa sostanzialmente viene nel trading pit cioè pit proprio nella fossa dove sostanzialmente è nato poi questo eh questo diciamo mercato e questo è stato fatto da Yenix questa diciamo questa struttura che poi è stata brevettata però poi il cibotte non gli diede vinse tra virgolette la la causa o comunque non diede seguito a questo brevetto però il concetto è che è stato eh analizzato è stato eh fatto in un modo dove tutti no il trading pit è stato fatto in un modo ehm dove tutti possono sentirsi osservarsi guardarsi perché poi dovevano comunicare con questi gesti e allo stesso modo ehm scambiarsi sostanzialmente le quantità che abbiamo fatto vedere prima di di trade quindi di di materie prime eccetera eccetera c'era il pit c'era varie fosse varie fosse quella del corno e quella dei cereali quella capito c'erano diverse mentre c'è qualcun altro che invece diciamo ancora eh vuole andare a leggere l'ultima pagina del libro e però eh chiediamo di avere un attimo di pazienza perché solamente insomma passando da queste componenti da questi significati da queste esplicazioni che si arriva a comprendere poi il significato degli indicatori che stiamo usando oggi perché è fondamentale fondamentale comprendere l'uso degli indicatori l'analisi volumetrica è una è un approccio di tipo contestuale eh non è un approccio di tipo analogico come può essere diciamo qualche branca dell'analisi tecnica classica che eh cioè prevede che un prezzo entri in un indicatore regolato da un algoritmo che restituisca un segnale l'analisi eh volumetrica è un approccio di tipo contestuale perché il segnale vero quello vero eh diciamo lo uso non appena lo vedo e lo intercetto quindi stavo parlando prima di vuole leggere l'ultima pagina del libro e qui solo per vedere se il cinque cento sette eh che è un livello di DAX long possa arrivare eh prima a cinquecento così lo accontentiamo cinquecento quindici e poi ovviamente addirittura superare e andare oltre e andare perché no anche a cinquecento ehm leggo bene cinquecento ventisei così abbiamo eh fatto diciamo anche per lui l'ultima pagina del libro però noi vogliamo partire da dove parte un trade e non semplicemente dire cinquecentosette cinquecento ventisei cinquanta target finale del DAX grazie grazie mi tengo a precisarlo ma noi lo accontentiamo perché voglio dire siamo anche qui per questo però il concetto è che noi vogliamo fare una formazione di un certo tipo di livello che sicuramente come qualcuno ha detto non la si trova in rete ma assolutamente no e non la si trova neanche in pescheria in tabaccheria e eccetera eccetera eh perché dico questo perché ahimè leggendo solo l'ultima pagina del libro si rischia di non comprare il libro e siccome i libri vanno venduti e vanno acquistati e vanno scritti perché dobbiamo tramandare per un semplice motivo dobbiamo tramandare quello che abbiamo noi nella testa a qualcuno come voi che siete qui ad ascoltarci con tanta pazienza però dobbiamo farvi capire ok perché questo flusso che voi vedete non è frutto di un insignificato così marchi ingegno eccetera eccetera ma è frutto ed è grazie forse magari o al primo telefono del di wall street che era il 1878 pensate il primo telefono wall street 1878 quindi non ieri oppure negli anni 1850 prima 52 51 e eh 70 70 negli anni 870 grazie magari a qualche cavo immesso nel fondo dell'oceano per darci questa possibilità perché noi siamo italiani l'America è lì noi siamo qui non è che arriva il flusso questo eh novemila sette sette mila novecentotrentaquattro e mezzo grazie allo spirito santo no viva sempre il signore ma arriva perché c'è qualcosa che viene sostanzialmente che viene veicolato all'interno del quale poi arriva nelle varie diciamo parti dell'italia dell'europa e del mondo ecco questo va capito no quindi io è vero che può essere magari qualcuno si può annoiare perché dice no ma sì mi stai spiegando determinate cose però noi lo facciamo per sensibilizzarvi e farvi e farvi diciamo acquisire quello che voi oggi non avete no non sapere che ci sono sostanzialmente dei palazzi che esistono dal 1890 è da folli perché fa parte delle nostre radici noi facciamo i trader e questo sono le nostre radici ok una volta era un mercato povero non si scambiava il dax o il nasdaq si scambiavano i cereali e i cereali frumento l'orzo il caffè tutte quelle materie prime che ve lo ricordo è il secondo mercato più importante al mondo primo c'è il valutario secondo c'è la materia prima terza c'è il bond e quarto ci sono sostanzialmente le azioni di americane europee e quant'altro è molto importante saperlo quindi ecco perché noi insistiamo su questo poi l'ultima pagina del libro lì si dà il 3 e lui è contento e abbiamo risolto tutto il problema grazie fabio scusate volevo solo solo interrompervi per un nanosecondo intanto ringrazio fabio e ringrazio salvatore per la chiarezza con cui ci hanno mostrato prima tutto quello che c'è dietro i mercati perché sono cose che comunque aiuteranno anche i futuri trader ma soprattutto volevo dirvi così in un minuto almeno che io ho l'occasione e la fortuna di conoscere grandissimi trader grandissimi trader internazionali quindi sto parlando di bollinger di larry williams di derry gappi di dev landry sono li conosco ok larry williams in persona quindi non certo perché mi ha mandato una mail ma una volta a milano mentre io chiedevo a lui alcune indicazioni strategie eccetera eccetera lui è stato lapidario nei miei confronti e mi ha detto stella prima di conoscere le strategie tu devi conoscere che cosa c'è cosa c'è stato dietro ai mercati altrimenti non capirai nulla e vi lascio concordo stella concordo perché ha perfettamente ragione nel senso quando io dico bisogna studiare e bisogna iniziare a studiare sul serio forse fermarsi tante volte fermarsi e osservare un po guardarsi un po anche internamente cercare di capire anche dai propri errori fare tesoro dei propri errori non è sbagliato quindi tante volte è meglio fermarsi capire che cosa non va e studiare quello che c'è da studiare i mercati vanno studiati non si diventa dottore in un anno non si diventa avvocato in sei mesi bisogna studiare non si diventa trader in un giorno non si diventa neanche ricchi in un giorno onestamente quindi chi vi propone la ricchezza in un giorno chi fa web solo per dare un segnale operativo ma secondo me è veramente triste detto questo andiamo avanti nel nostro percorso perché abbiamo poco tempo e vogliamo sfruttarlo nei migliori dei modi quindi Fabio tu stavi introducendo anche il discorso appunto del trading no anche dell'alta frequenza appunto per quanto riguarda anche la high frequency eccetera eccetera se ci vuoi anche spiegare vuoi spiegare diciamo a tutti coloro che stanno seguendo anche diciamo quelle che sono le tasse dove sono eccetera eccetera questo potrebbe essere una informazione lo spunto è quello diciamo di questi ultimi giorni in cui si parla tanto di tassazione no la rider tax eh che dovrebbe sommarsi alla Tobin tax che è c'è peculare della Forex e quindi si cerca diciamo di scovare eh quelli che sono i meccanismi meno incidenti a livello di tassazione insomma si è scoperto che eh insomma non ce ne sono eh l'Italia e la Francia sono gli unici due paesi in cui è stata eh diciamo imposta la tassazione anche su live frequency trading quindi non si scappa da qui bisogna passare eh a livello allora live frequency trading insomma l'abbiamo già toccata nei webinar eh precedenti è una estensione no? una estremizzazione della tecnologia applicata al trading perché eh i grossi intermediari i grossi operatori avendo risorse da investire hanno strutturato adesso li chiamiamo così e diciamo in termini molto eh grezzi dei macchinigini sono le cosiddette macchinette però dietro c'è tutto un mondo che adesso non andiamo a approfondire ve l'abbiamo già fatto lo riprenderemo in seguito c'è tutto un mondo che va dalla tipologia di ordine che viene immesso alla finalità dello stesso ordine beh per quanto riguarda l'Italia insomma legando il concetto alla frequency trading che poi volevo approfondire un altro concetto che era più vicino a noi e alle nostre necessità eh per mettere a mercato delle nostre strategie eh abbiamo detto che ehm cioè l'Italia è un paese dove è stato tassato l'ai l'ai frequency trading beh l'ai frequency trading in Italia abbiamo visto che fatto base cento sono novantanove le azioni tese a manipolare il book finalizzate a diciamo come possiamo dire a concretizzare l'un per cento in termini transattivi quindi fatta a base cento l'operatività eh di air frequency trading supportata a livello hardware software in maniera adeguata è solo l'uno per cento che viene finalizzato e quindi transato sul mercato il resto è tutto vapore possiamo dire immesso che contribuisce ad alimentare la pressione del mercato ma è tutto vapore di ciccia c'è poco beh la tassazione per quello che riguarda diciamo il mercato italiano è dello zero virgola zero due per cento di zero due per mille sul differenziale tra eh quantitativo immesso nel book quindi visibile sul book e quantitativo modificato successivamente perché tanto è l'operatività in frequency trading che poi è un semplice un per cento di quella che viene effettivamente finalizzata quindi queste sono delle strategie eh di 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 spoofing di layering di hot stuffing no? Hot stuffing è quella strategia di frequency trading che eh butta dentro butta dentro tantissima roba che non ha la finalità di essere concretizzata a livello transattivo ma solamente per eh diciamo mh come possiamo dire per creare confusione alla controparte allora noi come eh piccoli o operatori abbiamo una necessità una sola noi ne abbiamo andando a scovare eh diciamo le le operazioni che vorremmo fare ne abbiamo una quella di capire quello che stanno facendo i grossi operatori i grossi operatori hanno la finalità opposta cioè quello di non far capire quel che stanno facendo ovviamente si avvalgono di strutture hardware e software per fare questo come prima si avvalevano di dei galoppini che andavano sul recinto alle grida solo per fare numero e con i foglietti in mano in realtà non è una sostanza per scusa se ti interrompo vanno a eh mettere e togliere mettere e togliere mettere e togliere mettere e togliere sia in bid che in asca e vanno a inondare quello che potrebbe essere il book per avere di fatto una precedenza sui propri ordini che in realtà abbiamo scoperto che il una percentuale molto elevata non vengono neanche eseguiti spostandosi di fatto sostanzialmente sempre sulle parti alti o sulle parti basse creando di fatto una psicologia nel nel nell'istituzionale perché se io vedo che ho delle lettere che continuano a spostarsi con delle grandi quantità sui livelli sempre più in alto e dei denari che fanno la stessa roba con molta probabilità i prezzi saliranno o nella viceversa i prezzi scenderanno ma per un aspetto psicologico le macchine che sono prive di questo aspetto sostanzialmente vanno a inondare il book proprio per farti vedere dove sono questo è un po quello che accade ovviamente nella micro struttura dei book e siccome tutto il mercato è formato dal book o meglio in america abbiamo già spiegato il primo livello e diciamo anche il secondo viene garantito da liquidità ufficiali e il secondo viene diciamo garantito da istituzioni perché quando noi mettiamo un ordine al mercato con le piattaforme istituzionali sono sostanzialmente alcune volte o per lo più delle volte l'ordine viene processato elaborato no e immagazzinato dal bro dal tuo broker che è una piattaforma istituzionale quindi non retail ovviamente non rivolta al mercato retail molto più veloce molto più dinamica con un'esecuzione molto più veloce ma che viene internalizzato a chi conviene perché anche il broker fa il suo lavoro insomma no cioè schiacci lui avvisa cerca la liquidità questo in pochissimo tempo parliamo di millisecondi e il tuo ordine va nella liquidità e nel mercato grazie a quell'internalizzatore che ha percepito il tuo ordine e lo mette ovviamente sul mercato con un piccolo markup no alcune volte se io schiaccio 492 un schiaccio 492 mi dà 492 50 dai su cos'è se ho deciso che devo andare qui long e ho schiacciato 492 però mi ha eseguito 492 50 penso che forse me ne accorgerò al primo trade ma al ventesimo trade non me ne accorgo più ecco quello è quello che fanno loro lo prendono e lo mettono a mercato lo prendono da te a 492 lo mettono sul mercato a 492 50 ma te dicono che l'hanno dato a 492 50 questo è quello che fa diciamo la piattaforma quella anche istituzionale poi c'è la liquidità ovviamente quella nascosta che è tutto un altro un altro paio di maniche no quindi queste cose qui ovviamente tassate parlavamo appunto con fabio vengono tassate solo in italia e in francia se non mi ricordo male allo 0,02 per cento del netto quindi sostanzialmente se io metto 100 contratti sul fib e ne cancello 95 mi tasseranno sui 95 cancellati che è lo 0,02 quindi se io prendo un contratto lo moltiplico per 10 prendo l'indice lo moltiplico per 10 tiro fuori quant'è il nozionale che sono più o meno 210 220 mila euro lo 0,02 sono 40 euro 42 euro a contratto per un istituzionale non sono niente per la funzione che gli ha voluto dare che gli ha voluto far fare a quel determinato derivato perché dentro magari ne ha messi talmente tanti stoppati ovviamente che quei 40 euro a contratto nozionale non sono praticamente nulla ecco questo è un po quello che avviene nella high frequency nella parte invece trading fabio noi abbiamo sempre parlato del book o meglio di come si sale e di come si scende sul mercato abbiamo parlato anche dell'esecuzione del trade sul sul mercato però non abbiamo mai detto una cosa forse o meglio l'abbiamo specificata poco che è importante saper leggere sostanzialmente prima ancora di inserire l'ordine sul mercato il istogramma in questione noi lavoriamo moltissimo con gli istogrammi di volume nella fattispecie il volume profile il volume mirror profile e poi adottiamo sostanzialmente il volume cluster che è uno strumento lo prendiamo sempre come esempio perché lì ci appoggiamo anche la nostra pressure e come abbiamo detto più volte il mercato sale in un modo scende in un altro sostanzialmente sale perché vengono portate via le lettere sostanzialmente dalla parte alta del book scende perché vengono portati via i denari da dove li troviamo ovviamente sia in lettera che in denaro sia sulla parte alta sulla parte bassa perché quando invece ci sono i flash qualcuno ieri avrà visto e stamattina avrà visto l'euro l'euro ha fatto un bellissimo movimento questa mattina per chi l'ha tradato questo è stato un bellissimo movimento qui come abbiamo fatto vedere più volte lo fa in pochissimi secondi quando succedono queste situazioni è difficile anche trovare dei denari è difficile trovare delle lettere ma soprattutto anche il tempo di esecuzione di questo trade è talmente tanto veloce che o sei sulla parte giusta ti becchi uno stop detto questo non l'ha fatto una volta ma l'ha fatto ben due volte creando poi dei blocchi volumetrici eccetera eccetera però la cosa interessante se noi guardiamo il prezzo ovviamente ha fatto due minimi consecutivi uno più basso dell'altro se noi invece andiamo su quello che a noi interessa nella prima parte ha dato una bella spinta al mercato ribassista creando un bid il più bello della giornata rimbalzando ma se notate le macchine fanno le stesse cose ha creato sostanzialmente lo stesso bid con meno forza quindi vuol dire che quello era il minimo sostanzialmente da comprare a noi ancora questo minimo non c'è stato eseguito perché io sono un po stato un pochettino più conservativo questa mattina e ho pensato bene di mettermi su 11 e 55 perché conoscendo i polli ho detto sicuramente lì c'erano dei vuoti volumetrici e quant'altro partiva un determinato short ma se volevo ricoprirmi con la posizione long aspettavo 11 e 55 vediamo se poi questo 11 e 55 lo fa come ci arriva e soprattutto l'importante come ci arriva ci deve arrivare con queste condizioni non può arrivarci con un'altra condizione però vedete ecco questo è quello che dicevo prima quando trova sulla strada anche un'esecuzione vedete che qui è tutto rigorosamente rosso non c'è neanche un verde tra virgolette un colore vedete perché qui non ha trovato sulla sua strada nessun ordine che poteva soddisfare qualsiasi esigenza cioè qui non c'era nessun compratore disposto a rischiare tra virgolette di prendersi un mercato in faccia per tutti questi pips mentre qui nel movimento prima diciamo c'era un un piccolo sbilanciamento e da una parte dall'altra a parte la prima fase la seconda fase era riempito il book cioè sia da una side del book e sia dall'altra c'era diciamo mercato qui vedete che il mercato è a senso unico ecco questi sono i trade che a me piacciono di più perché vuol dire che non c'è flow che tiene perché questo deve scendere tra l'altro è sceso fino in fondo a 11 71 se andiamo sulla microstruttura questo movimento è stato fatto senza aver colpito una parte fondamentale del book che è sostanzialmente la lettera colpita cioè la domanda di chiedere un determinato ordine bensì invece erano tutti sostanzialmente bid che si spostavano verso il basso e non venivano sostanzialmente eseguiti ecco questo lo fanno soprattutto le macchine in orari come quello mattutino che comunque è un orario dove l'euro l'europa inizia ad aprire inizia a macinare gioco però la cosa interessante della divergenza del prezzo cioè i prezzi sono minimi consecutivi più bassi ma in realtà sul denaro che quello rosso i due denari sostanzialmente sono quasi identici tra l'altro dopo aver fatto il primo la prima escursione short il mercato è invertito e ha subito rimbalzato e ha portato sostanzialmente dichiarare che questo è il bid più bello per il momento della giornata con la speed più bella della giornata sia sulla prima di spinta vedete e sia sulla seconda spinta più bassa perché era finito il trend quindi quando vedete queste conformazioni sulla nostra piattaforma sono un segnale reversal molto molto importante detto questo io dimmi fabio no volevo tanto per fare un punto la speed misura la fretta a prendere posizione o a smontare posizione della pressure diciamo in eccesso cioè misura appunto gli eccessi di bid o gli eccessi di ask e se è notato che le mani forti dopo aver dato il la al movimento intervengono in contro trend proprio sui gli eccessi e tanto per fare poi rilascio la parola a te salvatore è un diciamo collegamento con quello che stavamo dicendo prima la pressure è un modo elettronico di vedere quello che succedeva attorno al flow attorno alla c'è al recinto alle grida c'è degli eccessi di acquisto o degli eccessi di vendita che venivano letti dal numero di partecipanti da una parte quindi dalla side diciamo acquirente rispetto a quella che c'era dalla parte in avvenita quindi è tutto un ripetersi perché i mercati poi sono sempre quelli è la struttura tecnologica che li ha fatti apparentemente modificare e chi non ha vissuto quel periodo lì non riesce a codificare appunto il significato di determinati punti di svolta che il mercato presenta sempre ecco questo volevo dire salvatore si individuato perfettamente cioè sintetizzato quello che effettivamente arriva sul mercato in questo caso come abbiamo spiegato prima gridato non a caso come dicevo prima venivano addirittura misurate le onde sonore di questi gridi di queste urla perché sostanzialmente le urla erano questa roba qui le urla facevano sostanzialmente prendere posizione short e abbiamo detto che la posizione short viene fatta in un in un modo molto ben preciso nel nei partecipanti perché sostanzialmente quando devo dare delle come possiamo definirle dei grandi dei grandi ordini no gli ordini cioè abbiamo sostanzialmente dei grandi ordini quando devo comprare farò questo grande gesto no se andate su youtube li vedete si sbracciano come dei folli ok oppure quando devo vendere faccio esattamente il contrario queste sono grande size quando ci sono questi quando avvenivano questi segnali oggi li leggiamo ovviamente con queste pressure che sostanzialmente si allargano e vanno dalla parte opposta ovviamente del denaro quindi delle grandi dei grandi acquisti ok perché qui ovviamente ci sono delle ricoperture in pochissimo tempo perché voi dovete pensare che questo se andiamo a prendere per esempio possiamo far vedere alle 9 16 9 15 se noi andiamo con la nostra piattaforma lo possiamo fare perché comunque abbiamo sostanzialmente anche il secondo si vede molto bene perché se andiamo su un secondo che è un time frame diciamo che non usa nessuno nel senso che il secondo è veramente poco nel senso che è difficile leggere il mercato al secondo però insomma possiamo quantomeno vedere che cosa sia successo in quella in quel fragente e ovviamente c'è una cosa da dire che parecchia gente in quel momento ha venduto e quindi ha venduto qui lo si vede bene in un secondo è riuscito a portare diciamo il prezzo perché la maggior parte di voi magari che non fa volumi vedrà i prezzi no e qui è stata brava cioè le macchine hanno fatto il loro lavoro perché vengono programmate per fare quello e da 1 12 e 0 2 sul lo ricordo sempre sull'euro c'è anche il mezzo centesimo di punto quindi 1 12 0 2 5 ok è arrivata insomma da 1 12 in pochi secondi in un solo secondo è arrivato a 11 e 91 5 non è poco è ovviamente non è poco questo non lo può fare l'essere umano ok e guardate qui questo è ancora più profondo da lo stesso prezzo che avevano finito perché dico i mercati hanno la memoria lunga non è vero le macchine hanno la memoria lunga perché vengono programmate per fare quello da 1 11 e 92 sostanzialmente in un secondo siamo andati a 76 lo vedete insomma da 92 76 è un trade vedete che qui non c'è stato ordine eseguito non hanno eseguito nessun ordine che non sia sostanzialmente della side del book cioè è tutto di un colore nessuno si è preso il rischio di mettere e schiacciare al contrario per cercare di far rimbalzare il prezzo questo è quello che avveniva ovviamente nelle parti più importanti dei floor ovviamente anche Wall Street fa questa cosa qui per poi sostanzialmente ricoprirsi e far ripartire il meccanismo noi grazie invece a questi indicatori riusciamo a capire che cosa sta facendo il mercato quindi il mercato è formato non solo ovviamente dai venditori e compratori ma è formato anche dalle velocità di esecuzioni di tutti questi trade è importante sapere che entra sul mercato una quantità enorme con una velocità enorme a un determinato prezzo perché vuol dire che c'è un forte interesse nel ricoprire o nel liquidare quella determinata posizione ok e quello chi lo fa lo fa la macchina non lo può fare sicuramente l'essere umano quindi ritornando invece alla parte del trading che quella che forse magari è anche più bella per quanto mi riguarda io segnalo diciamo un livello come dicevo prima del DAX non è importante quando ci arriva ma è importante come ci arriva ovviamente e lo rispieghiamo il primo livello a mio avviso importante è il 507 sul tragitto di questo diciamo del rialzo quando ci arriverà se ci arriverà fra 10 minuti fra un'ora o fra una settimana segnatevi questo livello e pensateci perché noi lo andremo a tradare questo livello il livello è 507 quindi 12.507 la motivazione è perché non vedo all'interno diciamo di questo histogramma che è quello che noi usiamo insieme al volume profile non vedo contratti significativi che possono fermare una corsa fino a 526.50 507 526.50 sono tanti punti perché sono circa 20 punti 19 punti e 50 per chi fa ovviamente il DAX pieno deve moltiplicare ogni contratto per 25 euro per chi fa il mini DAX so che molti di voi poi ci hanno anche scritto hanno fatto sostanzialmente molti diciamo il mini DAX vuoi anche per motivi legati diciamo al proprio conto corrente piuttosto che il rischio però insomma 19 punti e mezzo per 25 euro che sono quelli che facciamo noi sono 487 euro a contratto spero insomma che questo diciamo tutti voi lo possiate lo possiate raggiungere dico sempre che questi trade vanno fatti con dinamiche legati a numeri che al DAX piacciono che sono il 579 12 15 punti principalmente perché il DAX diciamo le macchine sono settate su diciamo rischi e soprattutto target di questo tipo quindi non fate i golosi andate sostanzialmente a cercarvi quello che è il vostro rischio e rendimento quello che il vostro money management permetterà di creare questo rischio e rendimento e perché no dal momento in cui usate un contratto 2 o 5 o 7 iniziamo a portare a casa subito sulla prima parte del long dico sempre se fate il mini DAX forse i 5 punti sono un po' pochini andate a caccia almeno di 7-9 punti se fate il DAX pieno allora il discorso cambia e potete sicuramente andare a cogliere un bel movimento ripeto perché proprio lì non c'è sostanzialmente flow come deve arrivare su questo movimento visto che siamo a 500 deve arrivarci con delle condizioni ben precise le condizioni precise che io devo rispettare secondo quelli che sono i nostri protocolli perché noi quello che studiamo sono i protocolli in questo caso abbiamo dei blocchi volumetrici che fungono da resistenza hanno già sentito questa resistenza che è 503 e 50 lo vedete questi sono questi gialli e blu che hanno un significato perché sono gialli perché sono blu e perché sono viola questi blocchi volumetrici fungono moltissimo come supporti o resistenze sempre al passaggio ovviamente dello strumento il superamento di questi blocchi sostanzialmente più di un determinato punteggio mi lascia pensare che spingeranno verso l'alto cioè pusheranno metteranno nella condizione il DAX di andare verso l'alto come sta facendo in questo momento questa è la prima condizione la seconda condizione è che vengano rotte sostanzialmente le pressure precedenti perché se io non compro uno strumento se non viene rotta la pressure precedente perché per salire come abbiamo spiegato più volte ci vogliono i soldi come diceva prima Fabio i denari che si alzano insieme agli ASC che si alzano per scendere si devono sostanzialmente invece se uno dovesse tradare uno strumento finanziario derivato al ribasso le lettere si devono spostare verso il basso i denari si devono spostare verso il basso quando li troviamo perché come avete visto nel nell'esempio di poc'anzi addirittura le lettere e soprattutto i denari sostanzialmente avevano via libera non trovavano sostanzialmente ostacolo di chi voleva fermare quel movimento dell'euro dollaro le pressure per chi utilizza so che diversi di voi già utilizzano la piattaforma volcharts il segnale operativo ovviamente abbiamo detto è da 507 la lettera la prima lettera importante che deve superare questa lo sta facendo la seconda lettera più importante da superare questa qua quindi ovviamente lì c'è il via libera perché sono due diciamo a mio avviso due pressure importantissime soprattutto perché proprio lì c'è stato addirittura il reversal cioè qui se andiamo a notare che cosa ha fatto il DAX soprattutto eccolo come è andato è andato e partito perché come vedete tante volte non abbiamo neanche il tempo di spiegare il trade però preparandocelo prima possiamo con voi e so che qualcuno sicuramente l'avrà anche fatto in questo caso era importante perché qui a 507 e mezzo c'era una lettera tra l'altro in divergenza ma era la lettera in questo caso più importante perché perché sostanzialmente c'erano dei blocchi volumetrici e soprattutto perché proprio lì aveva fatto il primo diciamo il primo test ma abbiamo sempre detto che l'algoritmo in trading e la frequency leggono sostanzialmente i tre livelli sopra quel determinato livello leggono tre barra quattro livelli sopra questi tre barra quattro livelli sostanzialmente non c'era flow non c'era flusso non c'erano contratti importanti la condizione che stavo spiegando prima cioè deve rompere la lettera precedente beh direi che è assodato il fatto che è stata rotta quindi corretto il movimento rialzista la seconda lettera più importante che corrispondeva al 507 è stata rotta ed è corretto sostanzialmente aver preso beneficio proprio come vedete qui drawdown non sappiamo neanche cos'è così mandiamo fuori di testa anche quelli che cercano di sostanzialmente andare a parlare del rischio rendimento 1 4 1 3 1 25 non lo so qui sostanzialmente ha rotto il 507 è andato su dritto sostanzialmente non anche con un punto due punti di stop qui non non venivano presi perché proprio il movimento rialzista come vedete ancora arrivato a 507 ha dato il primo target 516 noi sostanzialmente con la nostra analisi a chi voleva guardare l'ultima pagina del libro l'abbiamo accontentata vedete non siamo stati precisi perché abbiamo fatto 515 50 noi come primo target perché siamo conservativi non perché vogliamo noi il book non lo strezziamo mai noi il book non lo premiamo mai in giro noi gli istituzionali li rispettiamo sempre la festa non è finita continuerà continuerà e partirà da 513 però come vedete io prima ho segnalato 507 non ho non a caso ho messo 515 e 50 beh direi che questo vale il biglietto diciamo della della visione della trading library che non è stati diciamo bravi a rispettare il trade addirittura nel tempo perché sono le ore 12 e ci ha graziato anche di questo di questo trade ripeto la festa non è finita potrà partire dal 513 per andare poi accogliere ancora quei 13 punticini che sono preziosi però per chi ha fatto ovviamente questo trade in diretta ovviamente perché noi il sabato la domenica stiamo volentieri con le nostre famiglie in diretta insomma ha guadagnato dei soldi noi compresi questo diciamo fa capire come anche chi vuole leggere l'ultima pagina del libro può sicuramente sintetizzare il trading senza magari ascoltare la prima parte solo ascoltando il livello operativo però ecco noi non diamo segnali operativi a 3 dollari non diamo questi tipi di segnali operativi a 3 dollari perché dietro ripeto c'è veramente tanta esperienza e tanta voglia di fare trading in un modo in un modo professionale io per oggi direi che avrei finito di diciamo anche insomma anche grazie a questo a questo trade direi che possiamo fermarci qui e dalla parola a te fabio se vuoi concludere vuoi aggiungere qualcos'altro e poi passare la parola a stella che concluderà diciamo questo web no io colgo l'occasione per salutare tutti di ringraziare per la pazienza e l'attenzione e diciamo noi cerchiamo sempre di alzare l'asticella l'asticella tende quando viene alzata l'asticella e ci si allontana dal sottobosco del nozionismo quindi chi vuole chi ha la pazienza chi ha la forza la perseveranza di rimanere aggrappato a questa e binarra noi ci saremo sempre diversamente poi ho detto si può sempre benissimo rimanere nel sottobosco del nozionismo con con tutte diciamo le cioè le specifiche del caso bisogna però avere sempre presente il buon gusto di collocarsi come dico io ormai è diventato un mantra un paradigma nella al giusto livello della catena alimentare del trading ecco noi vogliamo essere ai vertici della catena alimentare del trading non sicuramente nel sottobosco un saluto a tutti grazie a stella grazie grazie a tutti voi grazie per essere stati con noi eh questo è un percorso didattico molto importante con volchart stiamo continuando a studiare questo percorso didattico perché non si tratta di semplici webinar ma sono veri percorsi didattici quindi come dicevamo fin dall'inizio non andiamo all'ultima pagina del libro ma siamo sempre e costantemente sul pezzo come dicono i veri giornalisti io ringrazio voi e ringrazio salvatore ringrazio fabio noi ci daremo appuntamento anche per i prossimi webinar quindi tenete eh d'occhio le nostre mailing list eh per chi va in vacanza buone vacanze ma noi in queste vacanze estive quindi sto parlando di agosto riproporremo alcuni di questi webinar con volchart quindi nella seguite la nostra mailing list perché non saranno in diretta ma continueremo a parlare di analisi volumetrica chi ha perso i primi webinar avrà quindi occasione di poterli risentire grazie di nuovo a tutti e buona giornata grazie stella e buon trading a tutti grazie a tutti grazie a tutti